Ma tu credi veramente che sia bene l'oggetto di questa generale preoccupazione per la pubblica moralità? Ma bene non è che un pretesto, un pretesto per perseguire altre ambizioni, fuochi impuri che bruciano copertamente ma neanche tanto e che hanno per vittima la libertà, quella di cui sono vittime ora soltanto gli schiavi. Sta a noi impedire che sia tolta a tutti i cittadini. A me pare, Urtensio, che sarebbe un disonore mortale per il Senato una soluzione di verle. Sarebbe come se il Senato ne assumesse le colpe, le giustificasse e stabilisse un precedente orribile che pretendesse di legalizzare ogni abuso. È solo una condanna di verre che può salvare la situazione e ridare fiducia agli alleati. Una condanna politica è già stata espressa. Ma occorre una sentenza pubblica, una condanna formale. Coinvolgerebbe tutti noi, ma non capisci? Onesti e disonesti, senza distinzione. Grazie a tutti. Io intendo assumere questa causa, tanto per dimostrare fra gli altri e me stesso che esistono ancora persone oneste in grado di dare una mano allo Stato.